Oggi Juventus Torino, Ghione, se stasera arriva Babbo Natale dirò che esiste davvero. Benvenuti nel canale. E siamo la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Jimmy Ghione è stato intervistato esclusivamente da Torino Granata.it. Ghione è un attore, corrispondente storico di Estriscia la notizia che è grande fan di Torino, come vedo il Toro in questo derby? Beh, vi dico la verità, non sono stanco del Toro o della classifica, ma di quello che succede sempre con la Juve, i numeri parlano da soli. Giocheremo di nuovo il derby e la Juve ultimamente sta giocando ancora meglio, ma come puoi pensare guardando i numeri che puoi vincere? Lo speriamo tutti, ma alla fine, purtroppo, sembra sempre un libro già scritto. Una cosa dell'ultimo minuto, un fallo, una penalità, la bella azione che esce non sanno perché e vince sempre la Juve. Hanno giocatori più forti, giocano in casa, vengono da mille vittorie derby, quindi cosa posso ancora aspettarmi? Prendere qualche gol. Questa è la verità. Stasera sarà un martedì di passione e domani ci leccheremo le ferite. Sono un positivo, ma cosa possiamo essere positivi? Siamo venuti da un pareggio, ma stavamo perdendo contro il Cremonese e giocheremo per la Juve, quindi qual è la nostra speranza? Vedere la Juve con il Nante è stato un duro colpo e continuo a dire che, purtroppo, il Torino ha un gap derby enorme rispetto a Roma e Lazio, Genoa e Campdoria, Verona e Chievo, Inter e Milano. Il derby di Torino è purtroppo, non dico già segnato perché ci sarebbero più, ma i valori in campo sono quelli. Il referto medico è agghiacciante, Viera è ferita anche oltre Vlasic, Lazarus, Pellegri e Zima. L'unico che è stato recuperato è Ricci e Illich deve essere gestito in modo che la formazione è fatto più dal medico che dal formatore. Quello che mi spaventa è che sta succedendo qualcosa con tutte queste ferite. Una volta che pedali e dai calci alla schiena. I giocatori erano 14 a 15 e se fosse successo allora quello che sta accadendo ora avrebbe dovuto giocare primavera, ma invece hanno sempre giocato. Ciao! 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 Ciao!